Ubi Banca si consolida in Toscana ma anche in Umbria e nel Lazio, lo dice il responsabile della macroarea territoriale Silvano Manella in occasione dell'approvazione dei risultati del gruppo Ubi al 31 marzo 2019 diffusi oggi. Il primo trimestre 2019 di Chiara Manella ha incrementato i risultati attesi proseguendo il trend di crescita avviato lo scorso anno in tutte le attività della macroarea territoriale Lazio-Toscana e Umbria, un rafforzamento testimoniato dall'aumento a doppia cifra degli impieghi concessi all'economia e alle famiglie oltre che dalla crescita della clientela servita. Un beneficio con effetti concreti sulle nostre quote di mercato che consolidano ulteriormente il posizionamento del nostro istituto di credito su aree anche di recente insediamento. In Toscana, regione con forti potenzialità di crescita, sono stati erogati 62 milioni di euro, ben 20 di questi ad Arezzo. Ubi Banca in funzione dei dati delle erogazioni indicati offre un sostegno decisivo all'economia del centro Italia, area in cui detiene anche depositi per oltre 6,2 miliardi di euro e raccolta in diretta per 4,4 miliardi di euro. Importante il supporto offerto in queste aree anche ai vari distretti produttivi, tra cui si segnala il distrettoografo di Arezzo con un trend positivo soprattutto sui prodotti a breve termine. Nello stesso trimestre a queste attività si è affiancata anche la programmazione dell'impegno annuale della banca nel partecipare attivamente con contributi diretti volti a sostenere iniziativa di ampio rilievo sociale in ambito umanitario, culturale e artistico organizzate da istituzioni o dalle realtà associative locali. Dottor Massia, dopo i buoni risultati del 2018, la prima trimestrale conferma il trend positivo? Direi proprio di sì, abbiamo una conferma su tutti gli aspetti, abbiamo un incremento dei ricavi e soprattutto sottolineo un incremento del maggio interesse proprio nella sua componente commerciale, abbiamo un'ottima tenuta della componente commissionale e una buona prestazione per quanto riguarda i risultati della finanza, quindi nell'insieme dei risultati molto soddisfacenti dal punto di vista dei proventi operativi. Abbiamo poi il solito continuo controllo molto attento della componente costi che continuano a decrescere e un'ottima performance anche sotto il punto di vista del credito. Sottolineo in particolare sotto questo aspetto il dimezzamento a confronto all'anno scorso dei tassi di default, cioè la percentuale di credito che passa a non performing dalla componente bonus. Questa si è più che dimezzata a confronto all'anno scorso e questo è un segno veramente molto molto buono.